Musica Ha attraversato la provinciale ed è stato investito da una Fiat Punto che viaggiava in direzione Torino. E' accaduto questa sera, venerdì 5 gennaio, poco prima delle 19, in Borgata Vittoria a un 81enne di Busconero. Il conducente della vettura, un 39enne, si è subito fermato a prestare soccorso. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Castellamonte e di Rivarolo Canavese e i carabinieri di Rivarolo. Inutili purtroppo i tentativi di rianimare l'uomo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS